Anche quest'anno abbiamo cercato di organizzare la festa annuale che facciamo dei pensionati, però quest'anno abbiamo fatto una scelta, la scelta era quella di ricordare Riccardo Pezzana, che era il presidente nazionale di Antea, un nostro grandioso sindacalista che ha fatto grande la CIS nel Novarese, ma anche nel Piemonte del quadrante del Piemonte orientale. Oggi abbiamo commemorato, abbiamo fatto una messa del suffragio e c'erano gli amici di sempre che l'hanno ricordato, ma c'era anche la figlia che ha ricordato il padre come un grandissimo signore, un grande uomo, un grande papà. Anche oggi ci troviamo qua con l'impegno dei colleghi della FNP, dei pensionati della CIS del territorio di Momo e oggi abbiamo messo nuovamente al centro il servizio e l'impegno che la CIS e i nostri pensionati incarnano ogni giorno attraverso il servizio alle persone che rappresentiamo, ma i cittadini in generale, andando anche a ricordare un collega che è scomparso da poco, Riccardo Pezzana, che è stato segretario della CIS, segretario dei pensionati, presidente nazionale della nostra associazione di volontariato Anteas che forse più di altri ha rappresentato plasticamente il servizio per la comunità, per la collettività all'interno di un'organizzazione sindacale delle sue associazioni. Siamo partiti dal ricordo di Riccardo Pezzana che ha mancato recentemente, che è stato un grande sindacalista, non solo un grande sindacalista nella CIS, nella Federazione dei pensionati novarese, ma è stato anche a noare il fondatore, con me, di Anteas, di questa associazione di volontariato, associazione terza età attiva e solidale. Non solo, lui ha giocato un ruolo importante anche a livello nazionale, essendo stato presidente anche dell'Anteas nazionale, quindi fino all'incidente, sono negli ultimi otto anni prima dell'incidente che è avvenuto nel 2011. Quindi siamo partiti da qui per richiamare ancora una volta l'importanza del ruolo che assumono le associazioni di volontariato per cercare di contribuire a dare delle risposte alle situazioni di disagio che purtroppo sono sempre molto presenti anche nelle nostre comunità.